Siamo con Andrea Lamantia, colpo di testa, palo palo, sembrava che avessimo scacciato tutto e ribaltato una gara e vinta anche con merito. Sì, è stata una partita difficile fin dall'inizio contro una squadra comunque ben organizzata, messa bene in campo, ovviamente ha trovato il gol del vantaggio e si è difesa, si è difesa bene, siamo riusciti a ribaltarla. Purtroppo è un episodio sfavorevole, dubbio, insomma ci ha penalizzato, però rimane comunque la nostra voglia di rimettere in piedi una partita e di dimostrare comunque ancora una volta quello che valiamo. Un Pescara che viene qui solo per difendersi vuol dire che l'Empoli è veramente forte, può dire la sua con tutti e ci deve essere questa consapevolezza? No, noi la consapevolezza la stiamo acquisendo perché comunque parlano le prestazioni e i risultati. Ovviamente non dobbiamo avere la presunzione di essere i più forti e dobbiamo comunque combattere ogni partita perché appunto vedi ci sono le partite che con gli episodi si possono mettere nel verso sbagliato e deve avere anche la forza di rimetterle in piedi. Forza di rimetterle in piedi e di giocarle senza paura. Sabato ne arriva un'altra contro un avversario che sarà molto arrabbiato visto l'ultimo risultato. Sarà un'altra bella partita contro una grande squadra. Sì, sarà sicuramente una bellissima partita contro una squadra forte. Loro saranno arrabbiati ma saremo arrabbiati anche noi. Quindi andremo là a giocarci le nostre carte su un campo difficile, una squadra con giocatori forti e ce la metteremo tutta per continuare a giocare come sappiamo. Grazie. 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 Grazie.